E bufera dopo la decisione dell'Aggiunta Municipale di rinunciare all'acquisto dei casoni d'oria, facendo decadere il diritto di prelazione ed aprendo di fatto la strada all'acquisto da parte di un privato. A lanciarsi all'attacco il circolo locale di Lega Ambiente che parla di doppia ferita per battipaglia, avanzando un'ipotesi di illegittimità nella delibera, in considerazione del fatto che il testo unico sugli enti locali attribuisce la competenza esclusiva in materia di acquisti e vendita degli immobili al Consiglio Comunale e non all'Aggiunta. La cosa che ci ha fatto male, sottolineano da Lega Ambiente, è quella di non aver nemmeno provato a difendere un edificio che come pochi altri rappresenta la nostra comunità. Per noi il rammarico è, se possibile, maggiore, avendo noi difeso strenuamente davanti al TAR i casoni da chi voleva batterli. Se sono ancora lì, un po' è anche merito nostro. Grazie a tutti.